e vorrei rispondere a quel signore triste perché lo devo giudicare un triste uno che viene qui e che fa una domanda da disinformato totale vuol dire che non è nemmeno un vero tifoso uno che dice mister ma secondo lei ma questa rosa ma mi dica la verità facciamo finta che siamo da soli ma è veramente competitiva allora allora prima di tutto vorrei spiegargli che la fede non è una cosa che ha un valore economico è un valore assoluto seconda spiegazione gli vorrei dire che una serie di studiosi olandesi non italiani olandesi hanno deciso che il napoli è la squadra al mondo che negli ultimi dieci anni ha avuto il maggiore valore di crescita quindi se questo vi basta bene io più di questo non vi posso dire grazie a tutti grazie a tutti